beh ragazzi buongiorno e questo video lo dovevo fare perché non è che ogni giorno vengo a Molfetta ecco come avete potuto vedere io sto entrando dentro Molfetta ecco ora entrerò dentro Molfetta farò un tratto e mi andrò a parcheggiare poco distante da casa mia da casa di mia madre e perché mi direte vai a casa di tua madre e vado a casa di mia madre perché dopo aver concluso la consegna SDA e il viaggio di salita dalla salita è presso un cliente di Ginevino che è di Barletta allora siccome questo di solito carica in serata tardi e sono appena leo 12 meno 10 allora io ne approfitto per recarmi a casa di mia madre e pranzare così mi tolgo questo pensiero faccio una duplice situazione saluto mia madre e mangio così posso anche risparmiare mi risparmio il pranzo di oggi e oggi poi a differenza delle altre volte di questo cliente di Barletta devo andare proprio nella zona industriale di Molfetta dove devo andare ad iniziare il carico caricando 26 bancali presso un'azienda, un frantoio sarà e di lì poi devo andare a completare il carico a Barletta presso la serie di questo cliente di Ginevino e si va a scaricare domani mattina devo scaricare vicino Carpi vedarla sicuramente voglio fare la pausa e andare a Bologna nuovamente per la tratta e venerdì mattina dovrei stare a Bale nuovamente e non volevo farlo però poi ho detto cacchio questa è una situazione importante oggi l'altra volta non era la prima volta che vado a mangiare da mia madre perché anche l'altra volta dovevo scaricato a Bale SDA e poi dovevo andare a caricare appunto a questo cliente di Barletta e l'altra volta però mi sono andoperato per fare il video adesso però oggi mi va di farlo ecco questo è il numero tale che vi faccio vedere un po' Molfetta il mio paese ora non posso decisamente andare a parcheggiare il mezzo vicino casa di mia madre perché questa mia madre è una zona dove è malapena dentro le macchine non posso parcheggiare le macchine quindi ora mi vado a parcheggiare dove sono andato la volta scorsa vi faccio vedere che sono delle strade molto larghe poi vista il casa di mia madre dal parcheggio sarà un quarto d'ora di strada ma neanche 10 minuti di strada a piedi ovviamente è il posto più vicino dove posso parcheggiare il mezzo non sarebbe stato bello se ci fosse stato pure mio padre così era l'occasione per farlo fare un giro un attimino sul campo però purtroppo lui mi dice parli di lavorare io ora andrò mangiare mangio di nuovamente come le persone all'ospedale mezzo giorno, 12 e mezza poi vado a caricare qui a questi 26 queste 26 pedali alla zona industriale di Molfetta non ci sono mai stato potevo benissimo caricare e poi andare a mangiare però preferisco lasciare il mezzo vuoto e non con la merce all'interno dal rimocchio allora ci stiamo avvicinando alla zona dove, al rione dove dobbiamo parcheggiare spero di trovare nuovamente il parcheggio non avremo problemi l'altra volta è andato tutto liscio spero di anche questa volta che non ci siano problemi ora lascio il cane vado un attimino a mangiare mi vado un attimino a rinfrescare e poi vado lì a Molfetta e poi in realtà dopo il meriggio dovrei stare a parletta in modo tale che possa partire poi in serato di solito verso le 10 da parto questa volta devo andare pure a San Severo a fare benzina ecco questa è la zona qui questo è il viscio giallo è stata la mia scuola scuola media sono cambiato un po' di cose io l'altra volta volevo parcheggiare qui di fronte però qua non ho fatto la pista ciclabile quindi qua a sinistra mi posso parcheggiare che c'è il colore giallo e nero quindi è perfetto c'è l'unico posto dell'altra volta perfetto lo parcheggio qua dopo vado via giro a destra non mi metto a destra mi trovo alla grande sulla strada per andare alla zona industriale perfetto dai ragazzi ecco qua qua sta bene e e e mo vado a mangiare da mia madre è un video che ecco vi ho fatto solo vedere il tragitto che ho fatto dentro la profetta non è non è una cosa una cosa rare quindi mi andava di condividere con voi questa esperienza beh ci si vede al prossimo video ciao ciao